Siamo pronti a ripartire, il pomeriggio sarà un po' più in italiano perché abbiamo un po' più di ospiti dalle nostre parti, partiamo subito col botto e quindi lascio la parola Massimo Sideri, Corriere della Sera è ormai un nostro parte della famiglia di Mind the Bridge anche Massimo con un attesissimo e un felicissimo ritorno quello di Vito Lomele, a te la parola Massimo. Grazie. Grazie a tutti, Vito Lomele Job Rapido, un anno fa eravamo proprio su questo palco a parlare delle difficoltà di fare start up in Italia, di certo non ti abbiamo scoperto noi perché tu eri già importante al tempo, però nel frattempo, nell'ultimo anno è successo qualcosa di molto importante perché c'è stata una exit significativa, Vito ha venduto insieme ai suoi azionisti una parte della società al gruppo editoriale del Daily Mail, quindi una exit significativa come purtroppo spesso avviene fuori dall'Italia, le exit ormai sono sono di questo genere, vanno verso l'esterno, le nostre start up funzionano, piacciono, ma spesso piacciono più fuori dai confini nazionali che in Italia. Speriamo di poterla ricomprare a dieci volte il valore alla quale l'hai venduta prima o poi, riportandola qui, però in realtà tu sei ancora qui perché sei qui a Milano che lavori indefessamente. Vi racconto due lezioni che mi ha dato Vito Lomele a livello personale. Io il giorno prima avevo saputo che stava vendendo, quindi da bravo giornalista ho iniziato a inseguirlo, a cercarlo per avere questo scoop. L'ho scritto, il giorno dopo è stata ufficializzata la cosa, io quindi ho pensato di proporre a sette al nostro magazine un po' la storia del nostro eroe. Lui è un po' l'eroe degli start up in Italia in quanto conoscete la storia, ha avuto molte difficoltà ad avere dei fondi, inizialmente testaldamente ha fondato la società con pochissimi fondi, forse qualche aiuto dagli amici si può dire? Non si chiama fundraising, si chiama una colletta tra amici. Una colletta tra amici, però mi sembra di capire che gli amici sono molto contenti a questo punto. Sono diventati ancora più amici, sono cose che rinsaldano l'amicizia in effetti. Quindi ho iniziato a cercarlo per fare un servizio fotografico, perché mi sembrava importante iniziare a raccontare in maniera importante queste storie, dare un po' la copertina agli uomini come Vito. L'ho cercato pensando di trovarlo chissà dove e lui mi ha detto «Ah sì, tranquillo, passa il pomeriggio, sono qui a Milano in azienda» e lì è stata la prima lezione, perché se io avessi staccato un assegno di quel genere mi avrebbero dovuto inseguire in Costa Smeralda mentre fumavo dei sigari e bevevo dello champagne. Lui era lì a lavorare tranquillamente il giorno dopo. Sono andato lì, ho chiamato il fotografo e il fotografo voleva fare una foto con Vito e tutti i suoi ragazzi, che sono 80, 100 a Milano, un'ottantina. Allora Vito ha iniziato a camminare avanti e indietro in questo open space dicendo ai ragazzi «Dai venite che dobbiamo fare la foto». Niente, nessuno si è mosso, continuavano a lavorare indefessamente, nessuno li poteva distogliere dal loro lavoro. Lui mi ha detto una frase che mi è rimasta molto dentro, mi ha colpito tantissimo, mi ha detto «Vedi, questa è una cosa importante perché la gerarchia è troppo lenta per internet, quindi in una start-up in realtà tu non puoi pensare di essere il capo come lo può essere in un'azienda normale». Quindi lui era il capo, era l'eroe, era quello che aveva appena staccato l'assegno e nonostante desse degli ordini, impartisse degli ordini a questi ragazzi, questi ragazzi continuavano a fare di testa loro assolutamente. Quella è stata una grandissima lezione per me perché ho capito cos'è una start-up, ho capito soprattutto chi è uno start-upper vero. Vito, un anno fa abbiamo parlato di tante difficoltà, nel frattempo comunque qualcosa si è mostro, ci sono state le storie come la tua, altre storie e il governo ci ha dato anche un decreto sulle start-up che per adesso possiamo dire che è lettera morta come tutte le leggi, va applicato, va implementato, tutto quello che vogliamo, però prima la parola start-up non c'era nei codici e nelle normative italiane. Adesso c'è. Secondo te è più facile oggi fare una start-up o siamo soltanto diciamo in un momento di grande entusiasmo? È più facile perché siamo in un momento di grande entusiasmo, secondo me. Infatti, ok, i cambiamenti istituzionali non sono ancora successi, però è già piacevole vedere queste possibilità. Invece sicuramente è un momento di entusiasmo da parte del sistema finanziario, anche perché al di fuori forse dell'i-tech c'è poco da bazzicare là fuori ormai. Anche per i fondi più tradizionali è difficile trovare società italiane interessanti per investire. Immagino che i tuoi amici abbiano raccontato quanto è bello investire in start-up a questo punto. Ah sì, ovviamente questo favorisce. Quindi direi che spero che venga sfruttato bene questo momento di entusiasmo e non sia un fuoco di paglia. Tutti le start-up che stanno nascendo, credo, da un anno a questa parte. Infatti veramente ne ho viste moltissime di più dello scorso, Man the Bridge a quest'anno, a questo qui, non solo qui ma anche in altri eventi. Spero che questa start-up approfittino di questo entusiasmo e che si venga pian piano a creare un momentum, un turbine positivo. Perché la cosa più importante, se si parla spesso dell'ecosistema, secondo me, al di fuori in generale, tutte le cose belle che si possono dire. La cosa bella dell'ecosistema è che ci sono tante professionalità che si creano, la gente comincia a giocare con questi business, con questi modelli di business, con la tecnologia, con il marketing, online marketing, con l'internazionalizzazione e così via. E quindi si creano capacità e quindi si creano anche persone più senior, più figure professionali, più esperte di business internet. E questo facilita molto davvero poi un momentum positivo, perché ci sono più persone più esperte che fanno altre start-up, oppure è più facile reclutare persone senior esperte di internet, quindi si possono costruire start-up più grandi, organizzazioni più complesse. E questo, si speri, ci avvicini un po' ad altre parti del mondo. Sì, è vero che stiamo crescendo un po' tutti trattando questo argomento, almeno per quanto mi riguarda è così. Io seguo ormai l'argomento in maniera importante da due o tre anni, è chiaro che c'è stato un percorso di formazione, ormai tutti mi spediscono business model, sto diventando un esperto, tra un po' inizierò a fare il venture capitalist. Infatti mi ricordano che avrei dovuto mettere una maglietta oggi Talent Scout, quella di Mind the Bridge, però mi dovete scusare perché ho avuto un problema con mio figlio. Domani mi vedrete con la maglietta di Mind the Bridge. Quindi effettivamente si stanno formando delle professionalità. Devo aggiungere al tuo discorso una cosa, credo che in qualche maniera il fenomeno esistesse anche prima, soltanto che adesso c'è maggiore attenzione. Quindi prima eravamo come tante isole che si muovevano senza colloquiare tra loro, adesso appunto ci sono le istituzioni che per quanto diciamo old economy sono importanti, quindi i giornali che iniziano a seguire il fenomeno, i governi che iniziano a legiferare su questi temi. Quindi per quanto vengano tutti da un mondo molto tradizionale, poco innovativo, comunque è importante che si faccia a fronte comune perché poi sappiamo che negli altri paesi che noi prendiamo come modello, l'intervento delle istituzioni e anche l'intervento del governo è stato rilevante. Tutti guardiamo al modello israeliano dove appunto la trasformazione da campi agricoli a valle delle start-up è avvenuta grazie a una grossa implementazione pubblica di denaro. Qui in realtà il grande assente continua a essere i fondi perché poi abbiamo avuto il decreto sulle start-up, si è parlato di un fondo di fondi, alla fine il fondo dei fondi è stato un po' scippato dal decreto, non ce n'è più traccia, si dice che il ministro Pass ne stia ancora trattando a livello individuale con cassa depositi e prestiti, però probabilmente la madre di tutti i problemi rimane il funding, la ricerca dei finanziamenti iniziali. Io sono totalmente d'accordo perché è necessario avere dei soldi per poter sperimentare. Quello che dicevo prima dell'ecosistema che crea professionalità, figure professionali, si ottiene ovviamente se le persone hanno i soldi per sperimentare, almeno pagarsi lo stipendio per vivere e quindi fino a quando non ci sono abbastanza società che vengono almeno finanziate per vivere, per provare e anche se falliranno, diciamo va bene perché comunque si creeranno queste professionalità. Quindi fino a quando non c'è abbastanza soldi per fare questi esperimenti quasi nessuno li può fare. Poi nel caso di GeoBrapido che appunto come menzionavi tu risale a qualche anno fa quando non c'era ancora molta aggregazione, erano tutti le piccole oasi nel deserto. Il caso di GeoBrapido è nato purtroppo senza soldi, con la famosa colletta e quindi abbiamo cercato di sperimentare e di trovare la nostra strada senza soldi. E di fatti un po' anche ripaghiamo questo debito perché abbiamo sempre cercato di crescere risparmiando, ottimizzando all'osso e questo un po' ha rallentato la nostra crescita. In altri contesti avremmo potuto schiacciare con tranquillità l'acceleratore e quindi adesso saremmo stati dieci volte più grandi. Tanti sono abbastanza incazzato di questa cosa qua. Bip. Esatto, tanto c'è il Bip. Perché mi dispiace vedere delle realtà credo abbastanza competitive in Italia, come credo possa essere lo GeoBrapido, che però comunque soffrono di questo fatto qui rispetto a realtà che sono in altri paesi, tra cui per esempio vengo da due settimane a San Francisco, che non è che sono più intelligenti di noi, voglio dire le persone lì dentro, però l'ecosistema è potentissimo, quindi ti dà una... sia in termini di finanziamento, sia in termini di exit, delle situazioni estremamente più favorevoli e quindi alla fine ne escono delle aziende più grandi. È curioso perché se la nostra analisi è esatta abbiamo tutto il fenomeno in mezzo degli start-upper, mancano i finanziamenti iniziali e manca la possibilità di exit, quindi in qualche maniera dobbiamo richiamare l'attenzione affinché si risolvano questi due problemi, altrimenti non si va da nessuna parte, ovvero come hai fatto tu si va all'estero a cercare un acquirente o un finanziatore. In questo caso il finanziamento iniziale è colletta, exit sicuramente all'estero, perché nessun gruppo italiano ha una strategia internazionale in internet per cui ha interesse a comprare una società internet internazionale. Tutti i grossi operatori internet italiani hanno solo una strategia locale. Senti, tu hai parlato di fallimento e giustamente hai detto che il fallimento in questo mondo non è un problema, anzi è un modo per farsi le ossa, ma quali sono stati i tuoi fallimenti in passato, fallimenti importanti? Prima di job rapido? Prima di job rapido. Sì, ho lavorato per circa dieci anni con internet facendo tecnologia e online marketing, che sono due pezzettini abbastanza importanti per fare un business in internet. E ho lavorato per altre aziende, principalmente all'estero, cercando molte volte però di lanciare altri siti che hanno miseramente fallito. Sono falliti proprio in stato embrionale, cioè ancora a casa mia praticamente, però erano lì, hanno fatto poco traffico, pochi utenti e non è partito un business model. Quindi in realtà job rapido anche personalmente per me è probabilmente il quarto sito che ho lanciato. Non ti sei demoralizzato nel frattempo con i primi tre siti che non funzionavano? No, io personalmente volevo provarci all'infinito, perché credo che questa sia una questione puramente di attitudine personale. Io proprio volevo provarci, provarci, provarci. Secondo me tra l'altro credo che, per rispondere in maniera più generale a questa domanda, credo che il fattore principale del successo sia la determinazione, più che l'essere visionario e carismatico, robe del genere. È veramente la determinazione. Tu sapevi di potercela fare in qualche maniera? No, no, non sapevo di potercela fare, però volevo provare fino alla morte, quindi per caso ce l'ho fatta al quarto tentativo. Grazie. Quindi prima lezione, insistere sino alla morte, con determinazione. Cosa stai pensando adesso? Allora, per chiarire la mia posizione a job rapido, in realtà appunto la transazione che c'è stata riguardo a job rapido è previsto che tutti gli altri miei soci, i miei amici di cui abbiamo già parlato, non sono più soci di job rapido, ma io sono ancora dentro a job rapido e il mio interesse è ancora totalmente dentro a job rapido e si consumerà nei prossimi anni. Ancora l'azionista di maggioranza, corretto? Esatto. Quindi sono totalmente dentro a job rapido e sono contento adesso di essere un po' in una seconda fase, perché comunque abbiamo questo partner che nel tempo diventerà l'azionista principale, il 100% di job rapido. e sono contento di avere un partner adesso internazionale che mi aiuta a fare una seconda fase della storia di job rapido, che è quella di fare diventare veramente una corporation, non più una start up. E quindi stiamo lavorando a sistemare tutte le cose che non abbiamo fatto in passato perché dovevamo stare attenti ai costi, a massimizzare i costi. E quindi è una fase molto interessante perché posso fare delle cose grazie alla situazione finanziaria di job rapido che adesso è più che autosufficiente finanziariamente. Posso finalmente creare un'azienda più grande senza quella cultura che inizialmente abbiamo dovuto avere, cioè di risparmiare fino all'osso. E quindi sono molto concentrato e anche entusiasmante per me lavorare con questo nuovo obiettivo che è più di creare qualcosa di veramente grande rispetto a quello di sopravvivere che abbiamo avuto nei primi anni della nostra storia. Quindi com'è lavorare con un partner come il gruppo editoriale del Daily Mail, un partner anglosassone. Personalmente mi lasciano totalmente libertà, al 100%. E quindi fondamentalmente abbiamo una dialettica sulla strategia, per cui è anche utile avere opinioni diverse, ma fondamentalmente sono del tutto autonomo, quindi è facilissimo. Senti, da quel momento, dall'ingresso del gruppo del Daily Mail, hai avuto contatti con un'azienda italiana e qualcuno ti ha cercato per avere consigli, per capire meglio? Sì, ovviamente in seguito alle notizie, cioè per colpa tua, che il giorno prima hai già saputo. Come hai fatto a sapere il giorno prima? È il mio lavoro, tento di farlo bene. Quindi grazie alle notizie, ovviamente ho l'onore adesso di essere contattato spesso da altri ragazzi, che rispetto moltissimo, che stanno cercando di fare start-up. Sono molto contento che l'età media di questi ragazzi sia molto più bassa della mia, che ho 40 anni. Quindi ovviamente mi piace, cerco di aiutare, cerco di trasmettere l'entusiasmo a loro. In qualche maniera chi ce la fa ha quasi un impegno morale nell'aiutare gli altri in questo mondo. Esatto. È quasi il contrario di quello che avviene nell'azienda tradizionale, dove chi ha successo tende a farmogliere tutti i competitor possibili e immaginabili, mentre tra di voi vi aiutate molto. Sì, credo che, non so per quale ragione, ma c'è questa cultura, meno gli appi più sociali, non so, in internet. Non so, forse è un altro della California che notoriamente ha questo tipo di cultura sociale. Però effettivamente fa parte della cultura di internet, di essere semplice. E quindi lo faccio anche io, perché mi identifico. Senti, dopo Job Rapido hai già due o tre startup nel cassetto alle quali stai pensando? No comment su questo, ovviamente. No, però in generale penso che farò sempre start business in internet. Spero, ovviamente con un'ambizione sempre più alta di fare qualcosa di più grande, sicuramente business globali. La mia personale ambizione è di vincere in US, che è il paese più competitivo del mondo, anche più ricco, come si diceva negli interventi di stamattina. E quindi la mia ambizione personale è potenzialmente anche di avere una macchina che crea il business in Italia, ma che vinca in US. Quindi probabilmente nei prossimi business direttamente guarderò a US come il primo mercato su cui puntare. Mentre a Job Rapido l'abbiamo fatto più tardi, per esempio adesso stiamo aprendo un ufficio a New York, quindi l'abbiamo fatto in una seconda fase. Però adesso, siccome è il mercato più competitivo, il più ricco, il più sfidante, se facessi qualcos'altro partirei da lì. Perché se ricordo bene tu, a livello di numeri, sei la seconda al mondo, la prima società è una società americana. Esatto, nel nostro specifico prodotto, quello che fa Job Rapido, che è un motore per cercare lavoro, in termini di dimensione di utenti, siamo abbastanza grandi, siamo i secondi al mondo, e la più grande è ovviamente Surprise è americana, e che tra l'altro è stata venduta recentemente, ad un prezzo scandalosamente più alto del nostro, che appunto, ecco perché ho detto incazzato prima, allora più o meno 10 volte, no mi scusate, 20 volte di più del nostro, mentre il loro fatturato era solo 3 volte più grande del nostro, quindi qualcosa non quadra. 3 volte il fatturato di più grande, 20 volte la valutazione. Quindi evidentemente ci sono dei fattori aggiuntivi che influiscono questo. Non so se si fa una start-up per soldi, però in generale, io credo di no, credo che sia, fa parte, come voglio dire, si gioca a calcio per fare i gol, si gioca a start-up, perché gli indicatori di successo sono quanto è ricca l'azienda, però io lo vedo come una gara e questo mi fa incazzare, nel senso che un progetto con persone rispettabilissime, con cui siamo anche amici, uguale a noi, fatto in America, ha un valore altissimo rispetto a qualcosa che assiede in Italia. Voi lo vedete così, ma lui non si è vestito oggi così per fare lo start-up, lui va al lavoro così in motorino e andava in motorino. Mi sono vestito meglio oggi. Oggi si è vestito meglio. E lui andava a lavorare in motorino prima di staccare questo assegno multimillionario e continua ad andare a lavorare in motorino. Mi sono comprato il motorino nuovo, perché mi hanno rubato quello vecchio, non so perché dopo 4 giorni c'è una strana coincidenza, quindi mi sono comprato il nuovo scooter. Troppa attenzione dalla stampa, subito. Magari qualche start-up che ha preso come reliquio il motorino di Vito Lomele. Senti, abbiamo qui degli start-up che probabilmente hanno anche interesse o la curiosità di farti delle domande. C'è qualcuno che ha voglia? Vedo già una manalzata lì. Ciao, posso parlare del tuo innanzitutto? No, volevo sapere, data la grande uscita... Presentatevi, magari. Ah sì, mi scusate. Lorenzo Carreri, piacere. Data la grande uscita che c'è stata con JobRapito, volevo sapere se in futuro avevi qualche progetto per entrare in ambito di investimenti, angel investing, roba del genere. Sì, infatti dovrei prendere in considerazione questo. Penso di farlo in futuro, è una questione di tempo. Onestamente per me è noiosissimo investire i soldi, è molto più divertente fare l'imprenditore. L'ipoteva a me ci penso io, eh. Esatto. Però onestamente sto incontrando, ogni tanto incontro delle start-up interessanti e quindi ci metto un dito dentro, diciamo, anche finanziariamente. Grazie. Qualche altra domanda? Senti, una cosa che mi ha sempre incuriosito, il nome, quanto è importante per avere successo? Come è nato JobRapido e secondo te quanto è importante avere il nome giusto per... No, non è importantissimo il nome. In realtà adesso JobRapido è un problema perché in America, negli Stati Uniti, siamo un po' alieni con questo marchio rapido, mentre in Europa che culturalmente... Siamo in diverse lingue? It's ok, sì. In realtà potrebbe essere anche in inglese rapid, però in realtà l'America ha un'identità culturale più forte e quindi siamo un po' alieni. Siamo negli Stati Uniti, il lavoro è già rapido normalmente, quindi devi inventare qualche Job ultra rapido. No, sì, la parola è semplicemente inusuale, rapido. Ma in generale basta che hai un nome internazionale, neutro, va bene. Immaginate che il nostro competitor in America si chiama Indeed, cioè infatti, che vabbè è una parola qualsiasi, quindi non è che sia un logo spaziale, un uomo spaziale. Quindi semplicemente scegli un nome neutro che vada bene per tutto il mondo. Quindi presto cambierai? Adesso vediamo, è complicato. Una domanda? Sono Fernando Napolitano. Volevo chiederti a proposito del decreto sviluppo. A. Se l'hai letto e B. Cosa pensi? Con un po' più di merito. Sì, in generale ho seguito gli eventi estivi che sono... Chiaramente è un mio grande elettore, quindi adesso è costretto a leggere tutti i miei articoli. E credo che sia una buona iniziativa. In realtà il tema del fondo dei fondi, secondo me, era uno dei punti più importanti. Perché onestamente, per quello che mi riguarda le facilitazioni amministrative, per la mia storia personale non sono state molto importanti. Più o meno si può fare. Io in realtà all'inizio avevo fatto una Limited in Inghilterra, perché non c'era un pound di capitale sociale. Però adesso si può fare anche in Italia. Ma comunque fare l'SL non è tantissimo complicato. Quindi fondamentalmente io credo che la cosa principale per creare l'ecosistema è di favorire questi ragazzi che ci provano. È l'idea del fondo dei fondi, quindi di avere un po' di occhio del privato, ovviamente, negli investimenti. Ma un po' di maggiore obiettivo di lungo termine nei soldi pubblici lo vedevo come una cosa interessante. Facevo questo punto, perché tu l'hai toccato rapidamente. Io sono molto della tua opinione, nel senso che anche con la bacchetta magica, se fai lo streamlining di tutto, non risolvi il problema. Io credo che il problema fondamentale sia che nessuno ha fatto una paccata di soldi. Perché è lì che comincia lo snowball effect. E nessuno l'ha mai fatta, perché noi continuiamo e ci intestardiamo a essere quotati qua. E volumi quello che dici tu. Quindi il problema reale, credo, dell'Italia, e qui ce lo dobbiamo dire per un dibattito franco, non sono gli impedimenti. Se lo fai con un euro, meglio. Ma non è quello il problema. Il problema è che noi, se andiamo a fare la lista di chi ha fatto tanti soldi nel passato, stiamo ancora a parlare di tre, quattro casi. Allora qual è il problema? Il problema è che chi mette soldi non li ha fatti e ricorrere al pubblico, nostro pubblico, diventa un vincolo. Quindi qui il problema è che, lo dico ai ragazzi che stanno qui, che noi dobbiamo fare un modello intelligente, non di delocalizzare, ma di andare a prendere quelle opportunità giuste, come il tuo caso, che si chiamano Stati Uniti d'America. Perché non sono solo i 400 milioni, ma sono Asia e Sud America. Volevo sapere che pensavi di questo. Dicevi andare a prendere opportunità intelligenti... In America. Per chi? Quotazione. Quotazione. Sì, esatto. Scale up. Sì, sì, esatto. In generale, ovviamente, per fare un business internet grosso, non puoi pensare al mercato italiano. Cioè, credo, ormai per fare qualsiasi business grosso, a meno che non apri una catena di pizzerie, è difficile pensare al mercato italiano. Quindi, per forza, devi farlo internazionale. Una volta che lo fai internazionale, ovviamente hai anche il vantaggio di fare un business più grande, di avere accesso, eventualmente, a exit internazionali. E quindi, infatti, se io lo facessi, farei così. Onestamente, cercherei di fare una fabbrica in Italia di tecnologia, no? Perché comunque tutti quelli con cui, quando sei in Silicon Valley, sono tutti a piangere che non trovano tecnici. Quindi farei una macchina in Italia di tecnologia, però fondamentalmente collocherei l'azienda in America. Come si diceva prima, come Eric Johnson diceva prima. Perché altrimenti non sei proprio... Cioè, visto da fuori, non sei... Come azienda italiana parti malissimo. Non sei rappresentabile sul mercato internazionale. Specialmente su quello finanziario. Se poi hai un prodotto, lo vendi. Ok, lo vendi online, va bene. Però sul mercato finanziario devi essere americano, fondamentalmente. Quindi io credo che se facessi un'altra bomba, molto, spero, molto più grande di JobRapido, farei una cosa... Infatti il mio sogno adesso è di creare in Italia, con JobRapido, un centro di eccellenza della tecnologia, perché voglio proprio capire come si riesce a creare una macchina in Italia che fabbrica prodotti. E quindi puoi utilizzare questa macchina per il mondo, per farci delle cose che magari avranno la facciata in America. È un po' quello che stanno facendo, infatti, alcuni ragazzi italiani che stanno spostando, diciamo, l'headquarter negli Stati Uniti per attivare l'attenzione dei finanziatori. In realtà poi lo sviluppo continua ad avvenire qui in Italia. Esatto, credo che se vuoi fare delle cose grandi sia l'unica speranza. Poi ovviamente questo comporterà che in Italia si crea sempre più conoscenza, bla bla bla, e poi parte l'ecosistema. Io sono d'accordo che il fondo dei fondi è uno dei maggiori problemi. Infatti tu parlavi della exit, ma in realtà, da quanto ci raccontava Vito, si capiva anche che se ci fossero stati più fondi, anche inizialmente, il job rapido oggi magari sarebbe molto più grande e molto più forte. Quindi in qualche maniera dobbiamo tentare di spingere per avere questi due estremi che per adesso mancano. Quindi gli Stati Uniti possono essere la exit, però dobbiamo comunque tentare di avere un finanziamento che sia anche pubblico, credo che un po' l'indirizzo sia questo, in tutti i paesi del mondo, perché in Francia e in Germania. Diciamo che noi abbiamo questa antipatia per la parola fondi pubblici, perché sono sempre stati utilizzati nella maniera scorretta. Però in realtà, se andiamo a guardare gli altri paesi dove c'è stata un'implementazione dell'ecosistema delle start-up, alla fine la partenza è sempre avvenuta con dei fondi pubblici, quindi Francia, Germania, la stessa Silicon Valley, all'inizio erano investimenti della difesa, quindi investimenti che arrivavano dal governo. Quindi credo che non riusciremo a ottenere nessun risultato senza un aiuto da parte del pubblico, almeno questa è la mia opinione. In questo momento credo di sì, almeno che tutti i fondi italiani nel loro piccolo esplodano di entusiasmo, credo sia la via più scalabile, quella del fondo dei fondi. Bene, grazie mille. Giustamente Vito prima mi diceva che per voi il prossimo anno invitiamo qualche novità, invitiamo qualcuno di nuovo e speriamo di invitare uno di voi qui sopra a raccontare la vostra storia di successo. Grazie.